Senti, mi vedete qua, guarda. Visto qua. Mi racconta. Sì, sì, guarda, qua si... dove mangiamo noi. E la misa, sotto la forma di una misa. Mangiamo qua, perché... Porcheria, mi armi. Guarda. Ragazzi, siedono qua, guarda. Sulla scala. Con il freddo. Guarda. Qua è la nostra misa. Considerate la misa. Guarda, tutti sporchi. È freddo. E anche... una misa.